Simone Andreetta ha appena vinto il memoria al Gerri Gasparotto Simone spiegaci cosa è successo negli ultimi momenti e quando hai attaccato Ho attaccato l'ultima volta dell'ultima salita al Palazzo 8 e sono riuscito a tenere un buon vantaggio fino a qua alla fine e diciamo che ero da un po' di anni che non arrivavo più in solitaria e questa è veramente una gran bitonica Che l'anno scorso hai vinto lo sprint se non erro Esatto Quindi ancora un successo che arriva in provincia di Vicenza che trovi qui di tanto particolare Ma diciamo che mi porta bene questa corsa in particolare questa corsa perché anche da primo anno sono arrivato davanti ho fatto sesto e è da due anni che la vinco quindi mi porta veramente bene adesso speriamo di vincere altre corse di un grande spessore e andare avanti così L'anno scorso hai indossato anche la maglia della nazionale quest'anno speri di ritornarci quale obiettivo preferiresti tra il tour dell'Avenir o Ponferrada per dire? Ma diciamo che il mondiale è l'obiettivo numero uno però c'è ancora tanta strada da fare e ancora tanto da dimostrare Boni in bocca al lupo allora Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille